Per quanto riguarda gli effetti, ci sono due schermate di editing, una dedicata agli effetti insert e l'altra agli effetti LQ Master. Vediamo di approfondire la differenza tra questi con l'aiuto di un grafico. La Triton Extreme è stata dotata di un numero incredibile di effetti, fino a 7 utilizzabili simultaneamente. Ci sono 5 effetti insert che possono essere usati individualmente o collegati in serie per ottenere un grado di elaborazione veramente complesso. Oltre a questi, è previsto l'uso di due effetti master configurati con il classico loop e per i quali perciò si può stabilire il livello di mandata individuale per ciascun timbro ed impostare il livello di ritorno. Gli effetti master possono essere considerati alla stregua di processori di segnale e per tale motivo più adatti al trattamento del mix prima dell'invio di questo alle uscite audio. E non dimentichiamoci che la Triton Extreme è fornita di una nuova ed esclusiva valvola 12AU7 con ingressi ed uscite stereo. Gli effetti insert, dunque. Nella tab routing di questa pagina potete decidere se inviare il suono alle uscite audio principali o eventualmente il livello di mandata agli effetti master, se lo desiderate, ad uno dei 5 effetti insert oppure direttamente alle uscite individuali o alla valve force in mono o stereo. Nel nostro esempio proviamo ad inviare un timbro all'effetto insert IFX1. Una volta effettuata l'assegnazione dell'effetto, andate alla tab successiva e premete il pulsante pop-up accanto all'IFX per specificarne quale algoritmo utilizzare dall'elenco che appare, tra l'altro anche questo suddiviso in categorie per facilitare la ricerca. Questo tipo di operazione può essere compiuto per tutti e 5 gli effetti insert, i quali possono persino essere collegati in serie se necessario. Poi è la volta di stabilire il pan del segnale in uscita dagli effetti e di assegnare il bus, che potrebbe ad esempio comprendere le uscite individuali o la valve force. Lasciando il parametro su LR potrete inviare il segnale anche agli effetti master per un'ulteriore elaborazione sonora. Qui è dove potete ruotare il segnale in uscita dagli effetti insert agli effetti master. Nel caso in cui abbiate collegato in serie più effetti insert, quest'ultima impostazione deve essere effettuata nell'ultimo IFX della catena. Le tab rimanenti sono relative all'editing più dettagliato degli effetti selezionati. La pagina degli effetti master vi offre l'opportunità di selezionare gli effetti per categoria, di specificarne il collegamento a catena ed infine di processare il segnale risultante grazie all'equalizzatore master stereo a tre bande, prima di inviare il tutto alle uscite audio principali LR. Queste sono le pagine tab per l'editing in dettaglio di ciascun effetto master e delle Q master. L'ultima tab è relativa all'impostazione del circuito valve force. Questi quattro parametri corrispondono a quelli gestibili mediante le manopole real time sul pannello superiore della tastiera. Queste opzioni consentono di elaborare con la valvola l'intero mix o utilizzarla come un vero e proprio effetto insert al quale ruotare uno o più suoni. Ciò può essere fatto inviando il segnale al bus 3 o 3-4 e quindi all'ingresso della valve force. Maggiori dettagli su questo più avanti nel video. Infine, il segnale in uscita può essere ruotato con le adeguate impostazioni di panne e mandata agli effetti master per un ulteriore livello di elaborazione. Ecco alcuni esempi di configurazioni davvero interessanti che potete sperimentare voi stessi.